Ciao, sono Francesca e questo è il secondo episodio di Lane e Pozioni, l'appuntamento con un filato e una pozione. L'appuntamento con un filato, l'appuntamento con un filato, l'appuntamento con un filato, la copertina era dedicata al vento. C'è qualcosa di più magico, ovvero meraviglioso, stupefacente del vento? Non lo vedi, ma c'è. È fisico, materiale, ti tocca e tutto reagisce alla sua presenza. Come avete visto, questa volta non mi sono allontanata molto da casa, ho fatto un salto al lago di Bracciano, che è a pochi chilometri appunto da dove abito, e il video introduttivo effettivamente, per quanto riguarda la geografia, non c'entra nulla con il filato di cui vi parlo oggi, che è un filato prodotto nella regione Marche, e che ho acquistato invece a Roma ad abilmente i primi giorni di marzo. La fattoria La Rocca è un'azienda a conduzione familiare, che si trova a Monfortino, in provincia di Fermo, e produce dei bellissimi filati utilizzando la pecora sopravvissana, il cui vello viene raccolto sia in fattoria, sia da micro e piccoli allevamenti vicini. La sopravvissana è una razza autoctona antica, nata dall'incrocio di pecore merino-rombuyer e pecore marchigiane di razza vissana. Questa si è poi diffusa attraverso le transumanze in tutto il centro Italia, ed è una pecora a triplice attitudine, quindi lana, latte e carne. La fattoria La Rocca garantisce un processo di tosatura rispettoso degli animali e dell'ambiente, e offre anche un servizio di filatura di qualsiasi fibra, anche di fibra di cane. Inoltre la fattoria organizza delle visite guidate, dei laboratori, dei corsi, e anche un piccolo museo della lana. Questo è stato il primo anno in cui l'azienda ha partecipato ad Abilmente e ha organizzato all'interno di Abilmente anche dei piccoli laboratori per la creazione di oggetti, credo animaletti, in fibra di lana. Insomma, ero incuriosita, e allora ho acquistato una matassina di Sibillana, 50 grammi per 160 metri, trattata con tintura naturale. Il tocco è abbastanza secco, inoltre era davvero pochina, quindi ho deciso di lavorarla insieme a dell'Emo Air, e infatti in un altro stand ho acquistato una matassa, cioè un gomitolino di Kid Silk Lades di Rowan, 25 grammi in pratica di seta e mohair. L'idea era quella di fare un berretto, un berretto morbido e caldo, e ispirata dal colore, alla fine ho realizzato un pussy hat, il cappello rosa delle femministe americane. Ai tempi della marcia su Washington, nel gennaio del 2017, in occasione dell'insediamento di Trump, avevo già fatto con della lana, della lana che avevo tinto io, avevo già fatto questo berretto, e l'avevo spedito al comitato organizzatore che distribuiva questi berretti ai partecipanti della manifestazione. Il berretto è questo. Insomma, attivismo o no, comunque il pussy hat è divertente da fare, praticamente è un tubo senza diminuzioni, che alla fine chiudi a rovescio con il metodo dei tre ferri. Ed è anche divertente da indossare, perché no? Per tornare alla fattoria La Rocca, spero vivamente che questa azienda torni a partecipare anche il prossimo anno ad Abilmente, per poter acquistare i suoi filati, che secondo me hanno un valore aggiunto bellissimo. e spero anche di poter un giorno fare un salto in azienda, magari. Restiamo in tema di colore vivace ed allegro, perché oggi vi parlo del carcadè, ovvero dell'infuso di fiori dell'ibisco subdariffa. Molti di noi conoscono la pianta ornamentale dell'ibisco, la rosa sinensis, che è una pianta che ama i climi caldi. Infatti ho visto crescere fino a diventare un albero solo in Sicilia, a dire il vero. Al contrario dell'ibisco siriaco, che invece è un pochino più resistente e si trova in molti viali alberati delle nostre città. Almeno a Roma ce ne sono tanti. La subdariffa si distingue per il piccolo fiore bianco, è un lungo calice rosso, è originaria dell'Africa occidentale, anche se viene coltivata molto in Asia, per la produzione appunto dell'infuso del carcadè. Questo infuso è privo di caffeina e ha un sapore particolare, acidulo e molto rinfrescante. È venduto in bottiglia, freddo e zuccherato. In Senegal è la bevanda nazionale ed è chiamato Bissap. Non so come si pronunci. È scritto Bissap. L'infuso è realizzato con i fiori essiccati, che si trovano in erboristeria, si trovano su Amazon. Io ho trovato questi due prodotti. Il primo è su Amazon e il secondo in un sito che utilizzo per l'acquisto di tè, T-Way.it. Naturalmente è possibile trovare al supermercato anche quello in bustine, anche se come tutti gli infusi ve lo sconsiglio, perché in genere quello che viene venduto in bustine è di scarsa qualità, dato che nelle bustine viene inserita la parte più spezzata o addirittura polverizzata della droga. L'infuso comunque può essere bevuto caldo, se piace, a me piace, preparandolo come qualsiasi altro infuso, cioè lasciandolo per qualche minuto nell'acqua calda e poi filtrandolo. Ma secondo tanti è molto più buono freddo, quindi si può prepararlo per poi farlo freddare, metterlo in bottiglia, magari unendolo a pochissimo zucchero o eritritolo, miele, insomma stevia, fate voi come lo preferite. In questo modo può essere tenuto in frigorifero e servito con del ghiaccio. Diventa quindi una bevanda davvero rinfrescante, molto gradevole e adatta alla stagione calda. Ma quali sono i benefici del carcadè tali da poterlo inserire in questa rubrica che si chiama Pozioni. La premessa, come sempre, è che i benefici si apprezzano quando un prodotto è utilizzato con una certa continuità. Perché? Perché l'infuso non è una pillola, un farmaco che agisce all'istante. Solo se diventa un'abitudine, se la sua assunzione è costante, allora può rivelarsi un reale rimedio a qualche piccola problematica. Detto questo, i fiori di carcadè rilasciano nell'acqua una serie di sostanze. Parliamo di antociani, di flavonoidi, di tannini e parliamo di vitamina A, C, D, di calcio, potassio, magnesio, insomma, tante cose. Ovviamente in quantità rilevabile, sì, ma limitata. In particolare, flavonoidi e antociani, che sono i responsabili del rosso intenso dei pigmenti di questo fiore, hanno una funzione vasoprotettiva e quindi sono particolarmente utili per contrastare fragilità capillare, varici, emorroidi, cuperose e ritenzione idrica. Quindi, se la vostra dieta si è già arricchita magari di succhi di mirtillo, abbondanti contorni a base di cavolo rosso, il carcadè è la classica ciliegina sulla torta. La loro proprietà più spiccata però è quella di essere dei potenti antiossidanti, agendo come ritardanti naturali dell'invecchiamento cellulare. Quindi, per tornare a noi, il mio suggerimento di oggi è quello di preparare una bevanda colorata, gradevole e benefica, adatta ad adulti e bambini, che possa sostituire le tipiche bevande industriali come il classico tè freddo estivo. Spero che questa puntata vi sia piaciuta e vi auguro una bellissima primavera. e vi auguro